E rieccoci qui per la terza partita della splendida BO3 svoltasi tra Foco24 e Ogan durante la Premier Challenge di Palermo. Qui è sempre Tecnark che vi parla, adesso passeremo a vedere i team di uno e dell'altro, sfilante. Per quest'ultima partita, Foco24 ha deciso di mandare in campo Gengar, Mammuswain, Mawile e Salamence, mentre Ogan ha deciso di mandare Talonflame, Kangaskhan, Garchomp e Gengar. E adesso passiamo subito alla lotta. Guido parte con Garchomp e Gengar, mentre Foco24 parte con Gengar e Mammuswain. Mammuswain fa protezione per pararsi da un probabile Focofato e il suo Gengar decide di fare pallavombra su Gengar avversario, che resiste utilizzando il Focal Nastro. Ottima predict questa da parte di Foco24, che riesce così a bloccare un doppio attacco di Mammuswain, e ha usato un doppio attacco di Garchomp e Gengar, incentrato su Mammuswain, grazie alla sua protezione. Guido ritira Garchomp per non fare lo shot, grazie a lo sketch che arriva sul Kangaskhan, e decide di non rischiare per due volte la stessa mossa su Mammuswain. Quindi decide di andare di pallavombra sul Gengar di Tirso, il quale però va KO grazie al pallavombra del Gengar di Tirso. Qua vediamo che entra in campo Talonflame al posto dell'andato KO Gengar, e Kangaskhan si megavolve, Mammuswain si protegge per un probabile Focofato, mentre Talonflame, con lo suo prioritario per eccellenza, Baldeali, manda KO Gengar, che aveva soltanto un PS. Kangaskhan, invece, di Crescimugno, fa Crescimugno, che però non va a segno, dato che Mammuswain si protegge. Tirso fa entrare Mawile, che indebolisce l'attacco sia di Kangaskhan che di Talonflame. Switch immediatamente Mammuswain per abbassare nuovamente l'attacco di Kangaskhan e Talonflame, così, riducendole così entrambi a meno due, in attacco ovviamente. Ma Wile si va a revolver, e Talonflame fa Baldeali su Salamence, che perde veramente pochissima vita, e Kangaskhan fa ritorno su Salamence, che non va a KO. Mawile attacca il disturbato Kangaskhan, che sciotta grazie a un carineria Kangaskhan. Mawile adesso si protegge, e ricordo che è appena entrato Garchomp, e Talonflame manda KO Salamence con Baldeali. Adesso Garchomp, per tutto il disturbato, crea il sostituto. Entra in campo Mammuswain, e qua la partita si fa abbastanza difficile per Kirs, anche se riesce a recuperarla, facendo spiga attacco e rimuovendo il sostituto di Garchomp. Mentre Talonflame fa fuoco carica su Mawile, che gli leva veramente la prossima vita. Garchomp, invece, manda KO Mawile con Terremoto, e fa considerevoli danni al Mammuswain di Kirs. Il quale, però, colpo di scena fa frana, e manda KO Talonflame. Mammuswain perde i PS grazie allo Storchisfera, e fuoco 24 si aggiudica l'incontro, e passa alla top 4 della Premier Challenge in Palermo, grazie al Geloscheggia del suo Mammuswain, che manda KO Garchomp. Così finisce anche il terzo incontro di questa VO3, tra fuoco 24 e Hogan. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video, se queste partite vi sono piaciute, e per seguirne delle nuove, ogni volta verranno caricate. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, di cui troverete il link in descrizione. A breve arriveranno altri videolotta, non vi resta altro che aspettare. Un abbraccio da tutto il team Infinity.